Speriamo di no, io penso che a livello nazionale Pierluigi Bersani ha vinto le elezioni, l'ha vinte alla Camera dovrà provarci, dovrà provare a fare un governo e andare a cercare i voti in Parlamento lo dovrà fare mettendo al centro alcune idee di sistema, la legge elettorale, la legge contro la corruzione alcuni temi che però parlano anche alla pancia degli italiani perché in questo grande mare del rancore, della crisi, delle difficoltà ha pescato l'antipolitica e quindi non dovrà solo concentrarsi su leggi di sistema, dovrà dare risposte alle pensioni, ai salari, ai precari, ai giovani e io penso che dovrà provarci e spero che riuscirà a mettere in campo un governo che potrà far transitare l'Italia in questo anno, anno e mezzo per non tornare dentro una spirale negativa come quella che può assomigliare alla dimensione della Grecia ad esempio